seguono persone da tutte le parti del mondo, quindi ho deciso oggi di non andare in live in YouTube, ma di fare una live qua su TikTok. Il 26 gennaio è stato il mio compleanno e quindi se mi volete aiutare, abbonatevi sul mio canale di YouTube. Hello. Hello. E diamo di fare una live con TikTok. Hello. Hello, how are you, my friend? I'm good, and you? I'm very well. Oh, thank God, thank God. Thank God. This time are very hard. You, all the things happen with the pandemia. Yeah. This is a very... Please let me ask, where are you calling from? I'm from Rome, Italy, and you? Rome, Italy, and Dubai. Beautiful Dubai. Yeah. Nice to meet you. But this pandemia is very bad, so sad for all the humanity. I hope it ends as soon as possible. Yeah. Because our lives are so bad with this quarantine. All the... All the... All the things. Right now. Yes, I'm very well, thank you. And you? Yeah, yeah. I'm good, I'm good. I'm good. Take the vaccine, please. Vaccine yourself. Yeah. I have the two doses, and in 10 days, I will put the three doses of vaccine. Okay, okay, okay. It will help you. Vaccine? Yes, yes. All right. All right. You have to take care of yourself, because this COVID is so bad. Yeah, it's true. This corona is too bad. Yes, yes. Yeah, it's true. I will tell my best, and then do something about it, okay? Yeah, okay. We have to take care of yourself. Yeah. I hope it ends soon, all this epidemic, pandemic, and the virus, because we don't need this. We have an old problem to put this, too, on our life. Okay, okay, okay. Wonderful. Well, fine. Thank you, too. Thank you. Thank you. You're welcome. You are welcome, too, sir. All right. I appreciate it. Okay. Nice to meet you. The same, I say. Nice to meet you. It's a pleasure. Okay. Okay. All right. Room. Oh, good, 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 good. Room is a beautiful country. Oh, which church did you attend, please? Yes, I don't know how. Is that? Hello? Hello? Oh, no, it's a match. Yeah, yeah, yeah. It's not a match. Yeah, it's good. Okay, so, I can ask you, which church do you attend? Ah, I don't know how to say. This is my fifth match on TikTok. Yeah, okay, 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 okay. Oh, it's good, it's good. What do you like to eat? Listen. Ah, very good. I can't hear you well, please. Come again, come again. What do you like to do on your free time? My free time? Your hobby? Yes. My hobby, my hobby. Okay, my hobby is playing football. It's my hobby. Very well. Yeah, playing football is my hobby. I like to do some streaming last time because I cannot go outside home. So, my last hobby is this. Do streaming on YouTube and other social networks. Yeah. We are in quarantine. You are in quarantine? Yes, yes. Here, yes. Why? Too much? Because? Yes, yes, do a corona. There is a lot of corona on the streets. Oh, wow. Sorry, 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 sorry. In Europe, it's the fifth wave. Okay. Oh, sorry, sorry. No, 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 no. Don't worry. Sure, you are in inside room. You can't go out like you are going to buy something on the market, please, or? Yes, it's strange because schools are closer. But the supermarket, no. And you can go to play lottery and some games like lotto, but you can't go to another places. Or all economic places you can go and spend. But schools, hospitals are more or less a closet. Okay. To go to football, you can. Yeah. Whereas money is not close. Okay, 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 okay. This. This one is too bad. It's too bad. This pandemic is spoiling everything. Yeah. Money rules. Money is the most important thing for all government. So here, when you go out to spend money, it's not important quarantine. But if you go out to get your children to school, and they are quarantined. It's the quarantined. Okay, okay. Sorry, sorry. Hi, Michael. How are you? I'm good. Too much pandemic in Europe. Room, yeah. Room, room. Hello, hello. How are you? How are you? Yeah. Too much pandemic in room. Oh, sorry, 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 please. Well, we have done zero together on this match. Yeah. Well, bye-bye. Okay, okay, okay. Hello. Hello. grazie a tutti grazie a tutti salve salve a tutti voi grazie oh it's me again you won you won you won ok last night i have a lot of people on a live today not maybe they are busy and then some of them not have time that's why today is a holiday for here that's why i probably yeah yeah today is holiday every friday now what happy friday and have a good weekend bye bye thank you 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 Hola, come va? Ike Adrian Hola, si Where are you from? Pero me puedes decir Adrian Ah, bien, Adrian ¿De dónde sos? ¿De dónde son todos ustedes? ¿English? Yes, I speak a little bit on English Ah, de Argentina Ah, bien, yo soy de Roma Espera que me parece que me hice efectos especiales demasiado recargados Bien, bien Hoy no estoy en YouTube Porque habitualmente hago las lives de ahí Pero quise probar en hacer algo distinto Después no sé en dónde se podrán ver las lives que hago en TikTok Pero esta es mi primera live que hago hablando Porque generalmente no hablo en las lives Yo Spanish Ah, bien, bien Bien, perfecto Si me siguen Yo veo que tengo mucho público hispanoamericano Si me siguen van a poder ser avisados Antes que empiece mi próxima live Si, hablo bastante bien en Spanish Gracias por los likes Y no se olviden De mirar mis videos Que algunos han sido vistos hasta 5.000, 10.000 veces Hago videos Siguiendo la tendencia del momento Así que no necesariamente reflejan mis opiniones Pero dejé de hacer hace rato videos míos Porque veo que interesan poco En cambio trato de tocar temáticas Hacia las cuales la gente es sensible De esta forma Tengo más seguidores Más likes Y más views Porque hago cortas animaciones Y se reproducen muchas veces Y no sé cómo funcionan las lives acá Siempre me costó descifrarlas Porque después en mi canal No se ven Pero es así Vean mis videos En donde aparezco yo Y tienen pocas visualizaciones Vean los videos En donde hablo de temáticas Que les aporta A muchas personas Y se verán muchas veces Increíble Tengo 550 me gusta 564 Pero qué está pasando Intervienen pocos en la chat Cómo puede ser 594 Vamos a ver a quién puedo invitar Nadie quiere venir en directa conmigo Vamos a ver He invitado a una persona Pero Soy yo Ah, bien Ah, fantástico Gracias Entonces vamos a ver Si te puedo Si llega la señal del wifi Hacer ver Una cosa Vamos a ver Si te puedo hacer ver una cosa Una cosa que podés ver también en mi Instagram Esto es mi perrito Duerme Tiene sueño Es un salsicha Mira qué lindo Mira pobresito Ronca Ya se dio vuelta Y ronca Él duerme así No sé cómo logren dormir tanto Pero es increíble Mis perros hoy están de vagos todos Esta también estaba durmiendo Esta también estaba durmiendo Pero ahora se despertó Es viejita Esta media cabronzita Y después La otra no sé en dónde está Porque tengo que salir fuera Del rango Del wifi Si no Si no se me va a suspender la live Entonces es una live Que hago para los amigos que me siguen en No te puedo hablar Porque parece que mi abuelo falleció Lo lamento mucho Esperemos que no Sabe decir Que ocurrió Pero Lo lamentaría mucho Que ocurriera algo así Mi querida amiga No Mi querido amigo Perdón Gracias de haberme seguido Hola 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 ¿Qué tal? ¿Vienes tú? Bien 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 Esperemos que no le pasó nada A tu abuelo Quería decir abuela Pero ok Porque todos mis familiares Están llorando Que te escuchan Los llantos Por eso Lo lamento mucho Sí No pasa nada No pasa nada Se me va a apagar el celular Porque tengo 1% de batería Y no tengo cargador Ah bueno Entonces dejame en los comentarios Que ocurrió Y Nos veremos Y mis condolencias Sí Ahora Después Cuando cargue el celular Ahí te respondo Si tengo Wi-Fi Bueno Bueno Chao eh Gracias por los likes Por haberme seguido De nada Y condolencias Chao 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 Ehm Nada, tu vedi questa comunicazione molto breve? Ho avuto questa comunicazione breve con una persona a cui forse purtroppo è morta la nonna e mi dispiace molto. Ehm Joe 1400 mi piace Il canale di youtube che non piace ma tutti guardano e che ha molto successo Scrivo nel mio profilo ma che cos'è il successo? Che cos'è il successo? Di fronte a un tragico evento Ecco ho voluto sperimentare Perché non mi sentivo di fare un video in youtube Allora ho Ho fatto questa live in tik tok Ho avuto due nuovi followers 50 visualizzazioni Gli invita gli spettatori a seguire in modo che venga loro ricordata la prossima volta che va in live Mi raccomando Non so dove si potrà vedere questo video dopo Perché io le live non riesco mai a trovarle quelle che faccio Ma se vi iscrivete al mio profilo di tik tok non vi perderete le prossime live Adesso c'ho due persone che mi seguono Ehm Impostatore Ehm No vabbè ma come dire Ah Facundo Al Marez Ciao Bene benissimo Va in diretta Aggiungi Bene Bene Omen Andai Ehm Bene bene ho mandato un invito per e l'ho o l'awario si todo bien dove stavolando ma del masso del menos es mi primera live acá io da Roma, Italia io sono un YouTuber, troverai in descrizione di questo canale il link in YouTube quindi si fa un match, non so come funziona a vedere di che vorrei parlare si sta vendendo qualcosa si sta vendendo qualcosa in live si ve che è una tienda di abarroti e elettrodomestiche non si capisce che cadena è però sembra un negozio di elettrodomestiche e io mi vieno a clavar così no te preoccupi no te preoccupi vendiste? si, hai visto per cercare una vendita ah, bene, fantastico e che vendiste? un aire acondicionato ah, bene, bene, in questi tempi si può entendere che qua c'è frio, allà c'è calor ah, bene, non c'è nada perché si è iniziato a cercare tutto e io sono perito ragioniere tenedore di libri però si è iniziato a cercare tutto e non si lavorava più sta bene e buono, che suerte che tu lavoras si, si, aca in Argentina è un po' complicato il tema del lavoro sta abbastante complicato questo covid non ci vino a arruinar la vita di tutti cerraron molti locali si, anche aca, ugual, una epidemia fu di locali esperemo che termine però dicono che va già ci sono varianti del omicron oh e non sapendo se la tercera dosis va a essere buona per il omicron quindi vogliono fare una quarta come variante e non si vanno a pinchar cada 4 mesi por encima che la gente si empieza a enlochecer e in Bälgica, in Italia, in Francia quemano tutto salen a la calle facendo barrera se quemano negozi no si, in dove lo llevarà però in Roma hay mucha gente che non si quiere vacunare aca per lo meno si stanno vacunando tutti la maggioranza e si, anche aca però hai una minoria, no però ademais i che vogliono lavorare non hanno l'argento tutte queste quarantena se enloche incendio tutto osea non si, si si juntano entre tutti i loci e facendo un desmano però anche uno che vive in un microdepartamento e si vacuna e respeta la quarantena e non trabaja llega a un limite di fiebre perché a un certo punto non sape che fare si, si si, che edate che edate quantos anni? 53 ah, bene e voi? 34 ah, bene sei mai joven si bene eh 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 si queres ver mis videos estoy en base a mi perfil de eh de tiktok e sta mi link de youtube ahora me da a meter a ver eh muchas gracias bueno queridos te mando un abrazo grande suerte y segui así vendiendo mucho así te va a ir mejor un abrazo grande un abrazo desde Roma bien, bien en tiktok 64% de carga en mis mi celular mi starete chiedendo perché ogni tanto parlo in inglese o parlo in spagnolo perché sono gli uomini che so parlare logicamente poi ho messo la camera speculare non mi so filmare adesso ecco e perché mi seguono molte persone non so per quale ragione dai paesi di idioma spagnolo e inglese sarà che il mio profilo di tiktok è diventato così popolare da potermi permettere il lusso di farmi seguire da persone in latino america e il regno unito e forse anche negli stati uniti non so o in qualche altra parte del mondo come prima era in non so se in Dubai una persona qualcuno mi dice per un mio video Land of Yurbet ha commentato complimenti bravo dopo devo andare a rispondere al commentario nel mio video di youtube e credo che sia un video che risponde e poi guardargli il video un video suo attualmente non mi segue nessuno voglio aspettare altri tre minuti per non scaricare la batteria del cellulare avrei potuto fare una live in youtube io non so che me ne viene da fare le live in tiktok però ecco la classifica settimanale la classifica settimanale dei tiktok tisti non mi include e non mi include perché bisogna avere cioè a me mi mancano 21.800 diamanti per raggiungere la posizione 99 e non so qua dice regalo per te rossa tiktok speciale ma io non so come mi devo fare il regalo io ma ma con che cosa mi faccio il regalo io tennis pallina da tennis applauso non so la logica dei regali ci sono anche tiktok universe 34.999 devo ricaricare allora devo ricaricare per farmi dei regali e salire di livello no non capisco allora se entro un minuto non entra nessuno in live io chiudo perché con solo due spettatori sono stato un'ora insomma poi ho fatto vedere anche cani io non so migliori spettatori e qui dice troverai gli spettatori che hanno partecipato alle tue live ma io non trovo nessuno non trovo nessuno chi sono migliori spettatori gli spettatori migliori sono classificati in bassi al tempo di visualizzazione e al numero di regali nessuno mi ha regalato niente gli spettatori che inviano regali che valgono più monete otterranno una posizione più alta in classifica gli altri migliori spettatori sono classificati in bassa il tempo trascorso cosa posso ottenere se mi tra i migliori spettatori i primi due spettatori vendranno visualizzati nell'angolo in alto a destra i primi 99 spettatori si appariranno nella classifica ma vabbè c'è anche chi non vuole apparire come migliore spettatore speriamo io di essere configurato come migliore spettatore ma adesso sono arrivato a zero spettatori ho sforato di un minuto quello che vi avevo detto che alle 16 e 30 avrei smesso sono le 16 e 31 e niente adesso c'ho due spettatori ma nessuno nessuno bellezza moda live attività chat sì questa è una chat nessuno che mi ha fatto regali nessuno che mi ha fatto regali nessuno che mi ha regalato bonus nessuno 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 adesso c'è una persona io di i appelliti intuiso che parlano castellano per eso saluto con hola hola che tal come va bene io spero che la se involucre in la live sino sinceramente ultimamente già non hai attività come mi live non è mala non è malvata lista regalos l'altra durata 46 minuti diamanti 0 mannaccia o vabbè avrei potuto fare in youtube ma non me la sentivo oggi non avevo argomenti e poi volevo sperimentare di fare finalmente una live di fare finalmente una live e beh ho preso 1400 mi piace adesso vediamo di fare un match andiamo di fare hello how are you hello hello how are you andiamo di fare anlamıyorum ki No, I speak English, Italian and Spanish too. Turkish. Ah, beautiful Turkey. Beautiful country. I'm from Rome, Italy. It's beautiful to be happy. No. We have to do a match. Yoke. Well, okay. e così ho avuto ho avuto la ho fatto una match insieme a una persona che non parla che non parla altro che turco e si è messa a ridere poi aspetta devo trovare qua è difficile trovare le persone che che io conosco e ne suggerisce tante ma insomma alla fine nessuno che io conosco certo perché in live ce ne sono poche devo passarmi sull'icona per vedere o la saluto se teme zico monterei saluto 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 se è di Roma e bueno io avevo detto che cortava io sono di Roma però se agrega persone, due a la volta non si iscrivono a mio perfil ricordo che potete vedere i miei video di YouTube che io pongo subtitoli in castellano perché sono italiano e adesso ho fatto 82 visualizzazioni totali se si iscrivono a mio perfil se si iscrivono a poter essere divertiti se si iscrivono a mio perfilare il video di YouTube se si iscrivono a mio perfilare il video di YouTube perché io parlo in italiano, video di YouTube, questa live va a essere ultra larga in TikTok, però non so come va, non so come va a salir, e che trato di Gladys2417, non so come, io non so se l'è la invitazione o non, perché, bueno, se ve che non accetta, ho tre spettatori, a cui mi agradezco di seguirmi, però dopo mi tendranno che spiegare in cui vedo le live che si fanno in TikTok, però non le trovo. Adesso mi segue solo una persona. Un'altra persona. Sono scomparse le persone, ma è rimasto l'occhio con una... Migliori spettatori non ce ne sono, hanno tutti avuto un promedio piccolo. 87 persone adesso mi hanno seguito. Da quanto sto in live? 55 minuti. Molto bene. Molto bene. Otro 5 minuti e corto. Billy Sutra tiene che parlare inglese. Billy Sutra Billy Sutra Ehm... Pace Marvel... Pace Marvel... Poi è sparita... Ah... Se facevo una live, erano le undici e mezza... le undici ore e mezza che potevo fare in YouTube. Poi ieri, ieri sera volevo fare una live. Perché fino a dodici ore mi sembra che si possono tenere di live in YouTube. Ma in Twitch il tempo è limitato. Invece erano le 16 e 30, no, erano le 15 e 30 quando ho iniziato questa live qua. Adesso sono le 16 e 45. Ma io come promesso... Fra tre minuti mancano e io dico ciao, belli. Anche se... Anche se... Beh, se ci saranno dieci persone non taglio. Ma con solo 89 visualizzazioni... Adesso c'ho zero visualizzazioni. Quelle che mi merito per essere voluto stare qua... Invece di stare... In YouTube. Comunque mi raccomando a quanti riusciranno a vedere questa live che io poi non so dove si carica la live. Andate nella descrizione in BIOS di questo profilo TikTok e andate a fare clic sul link di YouTube. Para quanti mi seguono in castellano, io pongo subtitoli a mis videos di YouTube in castellano. For everyone that follow me on English, I put on my YouTube videos English subtitles. Basta, le persone entrano per un secondo e se ne vanno via. 91 visualizzazioni. Voglio sapere i benefici che ci saranno... Allora... Hello! Buon fin di semana! Buon... Hola! Buon fin di semana! Buon fin di semana, querido! Cuenta secreta de yaoi! E... Machi... Si volete vedere i video di YouTube, CENTAHOI di Yahoo, lo hai... Lo hai, per... e la descrizione di mi bio di tiktok e fare clic in il link io a mis videos le pongo su titolo in castellano perché parlo in italiano di io voglio fare un duet con voi però e beh basta e vediamo un po' se riesco a fare una una live come va how are you I'm from Italy and you South Africa oh beautiful country very beautiful thank you so much thank you you can see my youtube videos go on my the description tiktok I subtitle my youtube videos on english because I speak in italian ok 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 did you guys hear that you must go check out his youtube videos what's your name Santa John Santa John what one yeah I'm italian but the name is chinese chinese nice city noise very nice very nice we have a lockdown with covid here because there is the fifth wave I I wish all this bad thing will end a day terrible terrible it's so sad but I don't know this is my first live on tiktok I do live congratulations I do live on youtube but here is the first time well my friend I've got to go box somebody now it was really nice meeting you say your name again ah San Ten Chan San Ten Chan si I can I find difficult to locate my live on tiktok because I don't know where goes the live on tiktok I can't see it I can't see my live in a second time I don't know why that's strange I don't understand why it's happening ah yes thank you very much we'll see you I've got to go but I'll see you later have a good weekend bye bye thank you bye bye bene allora ho approfittato a fare il coglionezzo parlando in inglese che poi come come mi si vede io credo che la gente crederà che questo è il mio vero aspetto partecipare partecipare nelle live con questi occhi ritoccati insomma faccio delle st Pete l'acqua